Ed eccoci qui ragazzi, ed eccoci qui. Questo dovrebbe essere il terzo giorno. Abbiamo dormito praticamente in questa sorta di farmacia dove abbiamo trovato tutte le altre cose, vi ricordate? E quindi è diventato giorno finalmente. Anche se devo dire, ho scoperto che forse di notte ti vedono meno, è più semplice insomma, camminare e passare inosservati. Sia per te che per loro, quindi. Tuttavia dobbiamo capire un attimino cosa fare. Siamo ancora vivi il terzo giorno e siamo messi anche abbastanza bene, devo dire. Abbiamo un bel po' di cose, abbiamo trovato un binocolo, una mappa che dovremo capire come orientarci e tante altre cose. L'importante per adesso è capire che si è di giorno, quindi cambia totalmente il gioco. Mentre prima quasi ci passavamo sotto i piedi, e adesso dobbiamo stare molto molto attenti perché ci vedono da molto lontano, bisogna rimanere sdraiati, nascosti, insomma, tenere sempre sott'occhio l'interfaccia. Questo è molto molto importante. Va bene, usciamo di qui. Beh, è incredibile quanto la notte possa disorientarti. Se vi ricordate, ero entrato in questa specie di tantinola qua e c'era questa porta che non ho visto, infatti ho fatto il giro da fuori passando e rischiando quando c'era questa piccola porta che avrei potuto utilizzare per passare da una parte all'altra. Come vedete tra notte e giorno cambia veramente tutto. Adesso abbiamo un binocolo, col tasto B lo possiamo usare, vediamo. Questo potrà essere molto molto utile, questo binocolo. Ehi, fighissimo. Magari fosse un cecchino, eh. Eh, si pappola il cervello, cavolo. Invece no. Può ritornarci, molto utile un binocolo per guardare da lontano e capire se le città sono piene zeppi oppure possiamo cavarcelo. Insomma, ottimo. Quindi sempre più elementi di gioco. E adesso, sul serio, usciamo di qui. E via, via, via. Cavolo. Pieno, anche di qua. Ci lo so. Cosa è quella cosa? Niente. Devo dire che usciamo da questa città e cerchiamo di orientarci. Cavolo, qui c'è il lino di Dio, praticamente. Un rave party dei zombie. Gay. Devo stare attento. Molto attento. Voglio salire su questa radura in modo che posso vedere meglio le cose. Cercare di capire il da farsi. Voglio orientarmi con la mappa. Avevo visto un cartello stradale. Questo potrebbe aiutarmi moltissimo. Se riuscissi a capire dove sono, insomma. Vediamo. Eh, ce ne sono un po'. Sulla strada. Avevo visto di... Di cartelli stradali. Cazzo. Porca puttana. Oddio, non ti puoi distrarre un secondo, cazzo. Che cazzo? Non muore, sto stradendo. Figlio di puttana. Cazzo, sto sanguinando. Una benda subito mi serve. Porca puttana. Aiaiaia. Cazzo, cazzo, cazzo. Mi hanno preso. Porca puttana. Quanti c'è uno dietro? Eh, il settimo cavalleggero. Ho sbagliato per distrarmi a guardare con... Quel benedettissimo... Sbagliato, cavolo. Devo smettere di sanguinare, altrimenti morirò. Morirò di brutto. Eh, troppi, cazzo. Troppi, veramente. Intanto sto morendo di sanguato. Se arrivo a semina, sono fottuto. Terzo giorno. Molto, molto brutto. Devo cercare di... 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 Di so, cazzo. Accidenti. Non ce la farò mai. Non c'è un posto in cui nascondermi, niente. Devo fermarmi e combattere, altrimenti... Eh, se ne sono aggiunti altri. Non ce la farò. Mi sa... Che... La nostra avventura finisce qui, ragazzi. Sono a 7.000. Tra poco inizio veramente a svenire. Però devo essere fottuto. Cerchiamo di ricaricare. Devo ammazzarli tutti. Se c'è mai solo una marea, cazzo. Vediamo se riusciamo a curarci. Niente. Ce l'ha ancora attaccati al culo. Accidenti. Ho sbagliato. Lo sapevo, cavolo. Non dovevo distrarmi con la mia. Non c'è una casa dove posso infilarmi, niente. 6.000 di punti vita. Molto, molto poco. Mi sto portando dietro praticamente correre. È inutile. Mi sto portando dietro l'ira di Dio, praticamente. Devo provare a salire questo. È stanco, vedete? Affannato adesso. Sto correndo da troppo tempo. Quindi faccio una brutta fine. È infinile. Forse se riesco a salire solo... È un solo proiettile, però. Lo userei per me, cazzo. Come figuratemi. Non voglio morire. Non voglio morire. Ecco. Devo fasciarmi subito, cazzo. Devo fasciarmi immediatamente. Altrimenti sentono l'odore del sangue. Questi coglioni. Dai, fasciati. Così almeno non sapono più. 4.000 punti vita. Malissimo. Sono della merda, ragazzi. Sono della merda. Cazzo, stanno salendo queste stranze. Tutti di giù. Speriamo che non mi vedano. Il sangue si è fermato. Cazzo, stanno arrivando. Vio di puttana. Eh no. Non lo ho visto, cazzo. Ma non lo ho visto. Via, 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 via. Stanno salcagnando di botte. Vio di puttana. Eiaiaia. Quanto pare non ha funzionato la tecnica. Vediamo se salire di qua. Magari essendo rincoglioniti i zombie non mi vedono. Forse mi va bene. Però sto schiattando, cavolo. Sono messo male. Che cosa c'ho che posso... Per riprendermi? Questa roba qui. Usiamola per far salire punti vita. Intanto sta salendo un altro. Non ho più armi. Cazzo. Ah, questo. Che culo. Prendi l'ascia. Prendi l'ascia. Presto. Dai, equipaggiala. Cazzo. Sta venendo su. Venendo su. Un attimo. Cazzo, non la equipaggia. Caracca miseria. Eccoci qua. Almeno con l'ascia. Cerchiamo. Sono sotto i 4.000. Quindi sotto i 6.000. Voi sapete bene che si inizia a svenire. Sì. Infatti guardate come vedo male. Molto male. Vediamo se c'è qualcosa. Adesso sembra... Eh, c'ha l'ansia, poverino. Eh, dai, dai. Cerchiamo di mangiare. Vediamo. Da 4.000. 5.000. Troppo poco ancora. Mangia ancora. Ah, l'ultimo riservo. Inutile. Non lo capisco, amico. Non aver paura, cavolo. Non c'è un titolo lì più di niente. Eh, beh. Come vedete, si è proprio finito. Si vede una merda. No. Sessione persa. Ci mancava solo questa. Che significa? Non sembra che gli zombie se ne siano andati, ma... Sono conciato veramente, veramente male, ragazzi. Tra l'altro non c'è niente da dietro. 4.700 punti vita. La vedo proprio male. Ho dovuto lasciare il fucile perché era scattico. Ho preso un'ascia. Per risalire di a 12.000 punti vita, eh... Terranno 500 scatolette dovrei mangiare per lì. Improponibile. Lì c'è una cittadina. Non so se siamo già passati. Correndo, sì. Mi sa che è proprio lì il svedale su cui siamo partiti. Quindi, vabbè. Proviamo ad andare avanti. Cerchiamo di trovare un'altra cittadina. Dobbiamo assolutamente mangiare adesso. Siamo conciati male. Anche se ci sono degli antidolorifici, ci sarebbe meglio. Terzo giorno. Molto, molto male. C'è una specie di centrale elettrica, quindi... Ehi. Una pecora. Che ci fa una pecora qui? Mi ammazzo. Una pecora zombie. Ah, fa un culo. Non è che c'è qualcosa di buono dentro. Niente. Mi spiace per te pecora. Scusate a tutti gli animalisti che mi stanno guardando. Però, questo è un survival horror, quindi... Sono giustificato. Cercherò di entrare in quelle case per cercare qualcosa. Speriamo. Come l'ho detto, ragazzi, è pieno anche qua. Ovviamente, sto cercando di entrare dentro. Ma non è affatto semplice. Questo, la caccia era proprio con me. Andiamo, andiamo. Non riusciamo a entrare. C'è un altro di fronte a un bel po'. Cavolo, c'è un altro di labbia veloce 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 veloce. Come se non bastasse. È incominciato il nuovo piove. Vabbè. Vediamo un pochino se riusciamo a capire. Se c'è qualcosa da mangiare qua. Assolutamente niente. Accidenti. Però, in realtà, c'è una porta, forse. Forse. Una stanzetta, cioè. L'ufficio del direttore. Vediamo. Magari potrebbe esserci qualcosa. Di utile. Scatolette vuote. Niente. Parti di un motore. Accidenti. Cavolo, mi ha beccato un altro zombie. Porca puttana. Devo fasciarmi subito ancora. Perché altrimenti. Gli altri zombie sentiranno il sangue. Eh, lo vedo male. Sento il battito cardiaco proprio. Lo vedo molto male la situazione. Ha dei pallettoni a questo. Grazie. Inizio a vedere anche male. Sono sceso a 3.8. Ecco. No, ragazzi. Aia. Bastardo. Accidenti. La vedo proprio male la situazione qua. Pint kills. Non so cosa sia, me lo prendo. Lo vedo con tutte le mazzate che ho preso. La situazione sta degenerando mano a mano. Basta essere feriti e la cosa va sempre peggio. Sempre peggio. Cuscono di rifugiarci qui dentro. Questo gioco non perdona nessuna distrazione. Ricordo che per un binocolo del cacchio probabilmente perderò la vita. Per guardare. La vedo male, ragazzi. Molto male. Ci vedo proprio male. Cerco di mangiare per far salire i punti vita. Ma vedo il battito cardiaco proprio ridotto male. 4.000. Ho aggiunto un po'. Ancora 4.200. Dobbiamo anche avere una bella aranciatina. Il battito cardiaco sembra si sia fermato. Quindi, mangiando, sono risalito a 4.200. E... Lì giù non vedo appannato, cavolo. Non vedo niente. Forse lì posso entrare. Dobbiamo stare sempre molto attento. Adesso è ancora peggio perché vedo come se fosse effuscato. Sì, si può entrare. Speriamo di trovare qualcosa di buono. Assolutamente niente. Ah, qui c'è della roba. Speriamo che sia roba... Proiettili, una pepsi soda... O... Nient'altro. Proiettili, un po' proiettili. Sì, non lo faccio a questo proiettili. Che davvero vado a mangiare, cavolo. Vabbè. Così abbiamo il nostro pianto. Sono specie di centrale elettrica qua. Potremmo provare ad andarci. Ecco dove portavano i trallicci. Nella prima puntata. Portavano le centrale elettriche. Ha. Vedo malissimo, cavolo. Continuo a piovere, è rilotto. Qua si può entrare. Vediamo. Parte di un motore. Ma come un flashlight? Forse per riparare le vetture, io che so. Adesso non mi sembra qualcosa, ma... C'è una casa, ma... Vediamo. Piena di fatto le zombie. Niente ragazzi, non so se è dovuta alla stanchezza o cosa, ma... È iniziato di nuovo... La tachicardia qua. Quindi, secondo me... Siamo giunti quasi alla fine. Maledizione. Dovevo trovare qualcosa... A mettere sotto i denti. Che peccato di rosica, rosica, perché... Che dopo che ha trovato tutto questo ben di dio... È un altro zombie, cavolo. Rosichi perché dice, cavolo... Dopo tutto il tempo che ho impiegato per arrivare qui... E poi... Un caricatore, no. Ecco. Molto difficile questo gioco. Eh, anche questo è il bello, forse. È proprio questo, già. Che assolutamente... Non ti puoi distrati un secondo. Sto iniziando a pensare, forse, che è meglio viaggiare in squadra. Perché a questo punto... Se avessi avuto un amico, forse... Avrebbe potuto darmi qualche squadra letta. Qualche... Qualche... Un antitolo regico, qualcosa... Che... Che avrei potuto utilizzare, insomma. Quindi ragazzi... Terzo giorno è andato in merda. Ancora continuano ad attaccarmi, perché... Mi muovo velocemente, quindi... Giustamente mi sarcagnano di botte. Non riesco a vedere quasi più niente. La pressione è bassissima, 3111 punti vita. Posso svenire da un momento all'alto. Se svengo sono fottuto, perché... Mi mangerebbero gli zombie. Cerco di trovare una casa da queste parti. Non riesco a vedere assolutamente niente. Anche se ho il binocolo. Figuratevi, ogni battito... Prema tutto qua. Niente. Non riesco a vedere assolutamente niente. Accidente come si vede male. Non riesco a capire nemmeno se sono delle case quelle là. Cioè... Sempre peggio ragazzi. La pressione scende inesorabilmente. La morte si avvicina. Che cosa brutta. Simulativo al massimo. E continuiamo. Insomma... Non vedo niente. Sì. Forse c'è qualcosa lì giù. Una casa enorme. Una fabbrica. Credo sia una fabbrica. Vediamo quel binocolo. Se riesco a vedere. Ormai sono quasi in fin di vita. Sì, di lì si può entrare. Speriamo. Potrebbe esserci la salvezza in quella casa. Quindi dirigiamoci da quella parte. Cazzo, me l'hanno visto ancora. Minchia, come deve fare? Cioè, è incredibile. Non posso... Non riesco proprio a muovermi. Accidenti. Dai che ci siamo quasi. Ogni passo... Speriamo ci sia qualcosa di utile qui dentro. Dovrei trovare almeno 600 scatolette. Per rimettermi il sesto. Un'ascia. C'è un Enfield. Cavolo. Un fucile. Niente male. Eh, però non ci sono proiette. No, sì, ce li ho. Ok. Questo farà un baccano terribile dentro. Quando spari, quindi. Sì, sento le mani di zombacci. Andiamo alla porta. Eh, ma non c'è niente da mangiare. Molto male. Cosa me ne faccio io se non c'è niente da mangiare? Eh, è una zombie. Di spalle. Noi rompiamo gli epaioni. Andiamo. Qui c'è un'altra. Vediamo un po'. Credo di aver trovato qualcosa. Più o meno non si vede niente. Pine killers qua. Non so cosa sia. Prendiamo. Accidente. Non vedo niente qui. Questa roba cos'è? Ormai sto perdendo completamente la vista. Qui vediamo. Bende, sì. Non mi servono purtroppo. Hat patch. Proviamo a prenderlo. Usa le hat patch qui. Ma niente. Sempre 3.011. L'unico modo per far risalire la vita sembra sia quella di mangiare. Oppure forse fare una trasfosione. Però te la devi fare qualcun altro perché tu da solo non riesci a farla. Andiamo avanti. Se solo riuscissi ad orientarmi a capire dove cavolo sono qui. Per capire almeno la direzione. Devo stare attento. Ti ore sorranno. E anche l'orologio si vede appannato. Minchia. C'ho il battito proprio. Una brutta del zombie. Accidenti. Oh, oh. M'hanno visto. Fa un culo con l'anfield. Mi spacco il cranio. Solo che non posso continuare sempre così. Devo assolutamente mangiare. bella arma l'anfield però eh. Un po' rumorosa però. E purtroppo non si riesce a vedere proprio niente ragazzi. Oh cavolo. Aia. Via 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 via. Mentre ce ne andò per tutti. Puttana. Cavolo. E mi sa che siamo giunti alla fine qua eh. Non c'ho più proiettili. Cazzo. Via 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 via. Lasciatevi andare. E il terzo giorno è anche l'ultimo per Mujahideen. L'ultimo dei talebani napoletani. Vi saluta. A presto. E ciao. Adesso avete visto cosa non fare in Dei Z. Ciao ciao. Ciao.